Finalmente è venerdì e come al solito ci ritroviamo per le nuove uscite della mia etichetta discografica Artisti Online. Ma prima vi ricordo che se avete bisogno di un'etichetta che supporti il vostro lavoro oppure se avete bisogno di promuovere i vostri brani con il nostro ufficio stampa contattateci qui direttamente su Instagram oppure inviateci una mail a infochiocciolaartistionline.tv Bene, questa settimana escono ben tre nuovi brani. Il primo si intitola Il signor Zatti di Edoardo Tincani e Fausto Bizzarri un brano molto mosso, stavolta un po' allegretto, che vi farà sicuramente piacere ascoltare. Poi abbiamo Ninfa, un brano al quale ho collaborato anche alla scrittura nonché agli arrangiamenti con Giovanni Caruso, il brano si intitola Ninfa e parla appunto di una madre, dei sacrifici di una madre e del riscatto anche del figlio che vuole ricambiare quanto ha ricevuto. E per finire abbiamo Venezia Palermo, un brano romantico di Michele Franceschini che uscirà però lunedì 15, quindi non lo trovate ancora sulle piattaforme di streaming. A presto per altre novità! Grazie a tutti!